Come è possibile mettere insieme l'evangelizzazione con il cambiamento dei tempi quotidiani, ma anche, più praticamente, per chi si occupa di sinodo, la vita quotidiana che è anche pratica delle chiese, delle comunità locali, insomma che a volte perde un po' di vista, non dico la parola, ma l'importanza del passarla a estranei o di evangelizzare. Sì, il lavoro della nostra commissione è anche quello di dare gli strumenti ai credenti delle nostre chiese per poter dire la propria fede. Già i credenti lo fanno attraverso il loro modo di essere. Se io credo profondamente che la legalità fa parte della mia fede, io allora la vivo con coerenza, la legalità, e vedo nell'illegalità un peccato o comunque una connotazione negativa. Questa legalità che i credenti vivono normalmente è una loro testimonianza, un loro modo anche di evangelizzare, cioè di trasmettere la propria fede. Abbiamo anche quest'anno stampato un nuovo volantino, dal titolo Una fede, una missione. Ecco, il nome è già tutto un programma. La mia fede io te la racconto e il raccontare la mia fede, quello che per me è Gesù Cristo, quello che per me è Dio, non è semplicemente una pretesa che io poi confronti, ma per me è una missione. Cioè una vocazione che tutti i credenti ricevono, non soltanto pastori, o che ne so io di altre confessioni religiose, sacerdoti, preti o vescovi, ma di ogni credente. Ecco, allora, questo opuscolo parte da dei temi importanti. La nostra fede, Gesù Cristo. Allora ti racconto cos'è Gesù Cristo per me. Un altro tema è la nostra scelta, quella di dialogare. Noi siamo profondamente convinti dell'importanza del dialogo ecumenico. E lo spieghiamo. La nostra vita è una Chiesa democratica, siamo una Chiesa democratica, ma che si autofinanzia anche. Non riceviamo nessun finanziamento per essere Chiesa, per pagare i nostri pastori. E lo spieghiamo. La nostra missione qual è? Annunciare la parola di Dio. Questa fede che è dentro di noi è che parte dall'annuncio della parola di Dio che Gesù è venuto a portarci. E poi, qual è il nostro impegno? Il nostro impegno è quello di una società che sia più accogliente, più solidale, ma sempre più laica. Laica nel senso di rispetto di tutte le confessioni religiose e anche rispetto della persona umana. Perché è così difficile trasmettere anche la fede laddove invece l'impegno etico è così facile da far vedere? La nostra Chiesa ha sempre lottato in Italia per la laicità dello Stato. E è apparsa agli occhi degli italiani, stranamente, perché in Italia non è così come una Chiesa molto laica, forse troppo laica. Ma era il nostro modo di porci al pubblico, alla società umana, perché abbiamo sempre ritenuto, e lo riteniamo profondamente anche oggi, che la laicità dello Stato, vissuta in modo autentico, corrente, eccetera, è la realtà che permette il rispetto di tutte le confessioni religiose, di tutte le religioni presenti all'interno dello Stato, e di tutte le realtà, altre associazioni, eccetera. E allora ci siamo sempre posti in punta di piedi, raccontando la nostra fede, pensando che parlare della propria fede significasse fare proselitismo. Cioè dire io ti dico in che cosa credo, perché così tu diventi come me. Questo non ha nessun senso nella nostra concezione di Chiesa, e quindi l'abbiamo anche omesso. Mentre invece tante persone avrebbero voluto veramente sapere in che cosa consisteva la mia fede. I miei compagni di scuola mi domandavano, continuamente io mi arrabbiavo anche con loro, perché mi domandavano, ah, ma voi protestanti avete la Bibbia? Ma voi protestanti credete in Dio? Ecco l'ignoranza. Quindi le domande ci sono, e noi ci siamo anche un poco. Attraverso l'otto per mille, per certi versi, la nostra Chiesa ha ricevuto un'enorme visibilità, grande visibilità, ecco, che non è certo evangelizzazione, semplicemente visibilità. Tuttavia, proprio a motivo di questa visibilità, abbiamo capito che è diventato sempre più esigente ed impellente l'evangelizzazione. Ma l'evangelizzazione nel senso di raccontarsi di quello che si è, semplicemente, perché la gente ha bisogno di saperlo. L'otto per mille, noi lo gestiamo semplicemente perché ritorni alle persone che lo danno, o che non lo danno sotto forma di firme non espresse. Noi cerchiamo, in tutti i modi, di separare le sfere, anche per proporci, in modi diversi, e nella realtà italiana, una è quella dell'otto per mille, che è un fatto assolutamente laico dello Stato, un'altra è quella della testimonianza personale, del raccontare la propria fede, attraverso, appunto, quello che noi chiamiamo evangelizzazione, che non significa, che non è affatto fare proselitismo, perché noi non crediamo nel proselitismo, perché non crediamo che Gesù Cristo sia solo nella nostra Chiesa. Ecco, ma Gesù Cristo è là dove le Chiese credono, credono in Dio, lo professano, leggono la parola di Dio, ma crediamo profondamente anche che delle persone hanno anche bisogno di sapere, ma perché no, quando la loro fede ha bisogno di essere condivisa con un modo che coincide con la nostra interpretazione, allora sono molto felici di frequentare le nostre comunità e diventare anche membri delle nostre Chiese, perché ritengono che in questo modo la loro fede può essere vissuta in modo autentico, mentre diversamente magari avrebbe avuto qualche problema. Grazie a tutti i nostri spettatori,